ho lavorato l'ultimo petalo e andiamo a chiudere punto bassissimo dobbiamo adesso andare a riprendere i punti e lo faremo nella maglia che abbiamo lasciato libera sotto le perline lavorate nel secondo giro quindi lavoriamo 3 catenelle 1 2 e 3 andiamo da dietro nella prima maglia libera a disposizione e ci agganciamo con un punto bassissimo sempre in questo punto andremo a lavorare adesso il primo angolo e lo facciamo in questo modo con 3 catenelle per il primo punto iniziale carico il filo vado sempre nello stesso punto e lavoro due punti alti 1 e 2 per comodità potete anche portare verso il basso il lavoro lavoro due catenelle di separazione e vado a concludere l'angolo lavorando altri tre punti alti sempre all'interno di questo punto in lavorazione quindi carico il filo rientro e lavoro l'altra parte dell'angolo con tre punti alti 2 e 3 sempre tenendo il lavoro verso il basso per mia comodità continuo con due catenelle per lo spazio di separazione nel punto successivo sempre questo libero sotto la perlina carico il filo entro e lavoro i punti centrali 1 2 e 3 2 catenelle di separazione mi vado a cercare il punto successivo libero sempre quello del primo giro sotto le perline lavorate carico il filo entro in questo punto una volta che l'ho individuato porto il lavoro verso il basso e vado a lavorare il secondo angolo con tre punti alti 2 3 2 catenelle 3 punti alti sempre nello stesso punto e vado a lavorare il secondo angolo mi vado ad individuare il punto successivo il punto libero successivo sotto la prossima perlina questo abbiamo lavorato ecco qua sotto la prossima perlina e vado a lavorare il punto centrale quindi 2 catenelle di separazione carico il filo vado nel punto libero e mi lavoro il punto centrale con 3 maglie alte 2 catenelle di separazione vado nel punto libero successivo e mi lavoro il terzo angolo 1 2 3 per il primo gruppo di maglie alte 2 catenelle di separazione rientro nello stesso punto e lavoro l'altro gruppo a chiudere l'angolo 2 e 3 ve lo faccio vedere da dietro quello che stiamo facendo stiamo praticamente lavorando il primo giro della granni e creando i quattro angoli andiamo a lavorare adesso il gruppo di 3 maglie alte centrali tra un angolo e l'altro quindi 2 catenelle di separazione mi vado a cercare il punto libero successivo carico il filo entro nel punto libero sotto la perlina e lavoro il gruppo di 3 maglie alte 2 e 3 do le due catenelle di separazione 1 e 2 nel punto successivo mi vado a lavorare l'altro angolo quindi vedete che mi vado a pescare sempre il punto libero e lavoro l'angolo con tre maglie alte 2 catenelle di separazione rientro nel punto e chiudo l'angolo con altre tre maglie alte 1 2 e 3 andiamo a lavorare l'ultimo gruppo di maglie tra un angolo e l'altro diamo le due catenelle di separazione 1 e 2 e nell'ultima maglia a disposizione sotto l'ultima perlina del giro andiamo a lavorare il gruppo di 3 maglie alte quindi mi pesco il punto e lavoro le tre maglie alte 1 2 e 3 il giro lo andiamo a chiudere con una maglia alta chiusa per metà perché voglio fare il cambio filo e quindi mi vado ad agganciare direttamente con il filo nuovo entro nella terza delle tre catenelle iniziali chiudo la mia maglia per metà e vado ad inserire il filo nuovo prendiamo il filo che vogliamo inserire andiamo a creare l'occhiellino d'inizio per poterci fissare al lavoro vedete e con il filo che dobbiamo inserire andiamo a chiudere le ultime due asoline della nostra maglia alta tiriamo la codina del filo che dobbiamo sospendere assieme a quella del filo che abbiamo inserito portiamo il filo da sospendere dietro e continuiamo la lavorazione con il filo nuovo chiudendo con la maglia alta ci troviamo già all'apice del archetto dal quale andiamo a ricominciare rientriamo nell'archetto estraiamo il filo quello nuovo che abbiamo inserito e andiamo a lavorare un punto catenella in questo modo stringiamo ulteriormente i due fili per fissare bene il lavoro le codine e del filo che dobbiamo sospendere e quella del filo che abbiamo aggiunto le portiamo sul bordo del lavoro per poterle nascondere durante la lavorazione e ripartiamo con il giro successivo con tre catenelle una due e tre carico il filo rientro all'interno del archetto e vado a lavorare due maglie alte che vanno a concludere il primo gruppo di 3 vedete diamo le due catenelle di separazione e siamo al primo angolo carico il filo entro nello spazio e vado a lavorare l'angolo con tre maglie alte una due e tre due catenelle di separazione ancora tre maglie alte nello spazio d'angolo e abbiamo concluso il primo angolo due e tre adesso possiamo eliminare il filo in sospeso prendiamo le forbici e lo andiamo a tagliare e continuiamo la nostra lavorazione con il filo che abbiamo inserito per avere ben visibile laddove dobbiamo lavorare il mio consiglio è di portare in avanti il lavoro vedete così abbiamo gli spazi a vista laddove dobbiamo andare a lavorare i nostri punti siamo dopo l'angolo quindi lavoriamo le due catenelle per lo spazio intanto cerco ancora di inglobare le codine carico il filo vado nello spazio e lavoro il mio gruppo di tre maglie alte una due e 3 poi alla fine del lavoro li sistemeremo meglio e li nascondiamo nei punti due catenelle di separazione vado nello spazio successivo e lavoro l'altro gruppo di tre maglie alte una due e tre e continuo la mia lavorazione per tutto il giro lavorando tre maglie alte in ogni spazio dei lati tra un gruppo e l'altro diamo due catenelle di separazione e nello spazio d'angolo andiamo a lavorare tre maglie alte due catenelle e tre maglie alte io termino il giro e vi faccio vedere come chiuderlo sono alla fine del giro vedete ho lavorato l'ultimo gruppo di maglie e andiamo a chiudere il giro con una maglia alta carichiamo il filo entriamo nella prima delle tre catenelle iniziali e chiudiamo con un punto alto e siamo di nuovo al centro dell'acchetto dal quale ripartiamo con il giro seguente andiamo a lavorare tre catenelle per la prima maglia alta carichiamo il filo rientriamo nell'archetto e lavoriamo un'altra maglia alta adesso andremo a lavorare punto su punto su ogni maglia due punti alti negli spazi quindi continuo sul punto seguente e vado a lavorare i miei punti alti due punti nello spazio un punto su ogni punto successivo quindi uno due e tre e come potete vedere siamo all'angolo nello spazio d'angolo lavoriamo come abbiamo fatto per i giri precedenti 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte quindi entro nello spazio e lavoro le prime 3 maglie alte 2 e 3 le due catenelle di separazione ricarico il filo rientro nello spazio e lavoro il secondo gruppo di 3 maglie alte e 3 e abbiamo creato il nostro angolo continuiamo continuiamo sulla parte successiva punto su punto due punti negli spazi quindi un punto su ciascuno dei tre punti successivi 1 2 e 3 due punti nello spazio 1 e 2 io continuo il giro e poi vi faccio vedere il successivo ho terminato il giro e fatto di nuovo il cambio colore chiudendo le ultime due asoline con il nuovo filo come vi ho fatto vedere in precedenza in questo modo come potete vedere non c'è scalino quando si va ad effettuare il cambio continuerò a lavorare questo giro punto su punto e poi la nostra mattonella è conclusa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti